Amici di MarciGames, la mia voce si sta sistemando piano piano. Oggi siamo qua con Loco, allora, oggi sai cosa facciamo? Oggi facciamo finalmente OK su Golf, visto che il primo episodio è andato benissimo. Ho scelto una mappa un po' complicata. Ok, perché siamo sempre con Loco le cose complicate? Eh, lo so, e ti dirò che metterò massimo 8 colpi. Ma fa 18? Il tempo massimo è... Ok, vuoi che metto 18 di penalità? Allora, va bene. Facciamo così, facciamo così, 5 colpi massimi, ok? No, è troppo poco. E penalità 5, quindi si fa 10 in totale. Sei pronto? No. Sei pronto per questa cosa? Non voglio essere pronto. Andiamo, Loco! A me piace tantissimo Golf e so che piace tantissimo anche a voi, quindi lasciate un mi piace, mi raccomando. E commentate con una modalità che vorreste scegliere voi o che vorreste vederci fare all'interno dei prossimi video. Tipo, non so, se Loco fa all-in-one, Maddi beve la cacca. No, no, no. Se io vinco questa, tu ti rasi metà barba, va bene? Va bene, tanto devo farla, quindi sto apposto. No, a me metà, in metà, l'altra lasci. Va bene, va bene. Ok, dobbiamo fare... Ah, ma non c'è l'ho, ok? Sì che siamo ok. Ok, c'è il disco, ma non c'è la porta, vedi? Eh, non c'è la porta. Non c'è la porta. Vabbè, vabbè, raga, dobbiamo sempre far gol, dobbiamo sempre far gol. Ok, secondo me dovete andare così. Ok. Allora, stai tranquillo, stai tranquillo, io ce la posso fare. Mamma mia! Ce l'hai fatta? No, sono qua davanti a te, c'è la città, mi becchi, gentilmente. Sì, ti becchi, dai. Grazie. Non così! Sei uscito? Dove sei? Uuuuh, ce la puoi fare ancora, eh? Ah, ce la puoi fare. Io ti odio! Ah, mi è mancato! Ti ho mancato? Non è vero! Non è vero! Quanto hai fatto? Cinque hai fatto? Quattro! Io ho fatto cinque, mannaggia, solo per buttarti giù. Va bene, va bene. Mi pare il karma! Noi ci vogliamo divertire, loco, è giusta questa... Ok? Perché questa mi sale difficilissima? È facile, vai dritto per dritto. Io faccio quattro, lo sai? Ecco, fai quattro, vai, fai quattro. Vediamo cosa fai. Era quattro, quello? Mi sembra che bisognava fare un po' di meno. Perché? Non ho capito. In due! Mi sono incastrato! Mi hai trollato! Cosa? Io ho fatto in quattro all'inizio. Te l'ho detto e l'ho fatto in quattro? L'ho fatto in tre! No, non sono andato troppo oltre! Ahahah! L'hai fatto in tre! Hai fatto gol 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 in tre! Tu canta, tranquillo! Ok, secondo me è questa qui. Io faccio tipo così. Troppo debole, Marcisi, troppo debole! E tre era troppo debole, sì. Perfetto! Quanto hai fatto? Incredibile! Only one! Pazzesco, Locolokis! Posso sapere quanto hai fatto, scusa? Uno e mezzo! Ma non è vero! Prima ho fatto due e mezzo, ho fatto. Ho fatto uno e mezzo io! Raga, non ci arrivo con due, non ci arrivo. Sì, devo far più di due, quindi. Da, 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 che bella la vita! Ma no, ma... L'ho fatto in due e mezzo adesso! Arrivi a dieci colpi! Campione, ho fatto due e mezzo, non va. Ma c'è qualcosa che mi blocca? Dieci colpi per Marci! Raga, avete visto? C'è qualcosa che mi blocca? I tuoi occhiali, i tuoi occhiali, cambiali! No, non hai capito, devi guardare il video. Mi promette che guardi il video? Ma ti stavo osservando adesso, Marci! Hai visto che si bloccava? Io ho fatto due e mezzo, ho fatto... Se tu hai fatto così poco, è impossibile allora. Non so se si darmi o no. Ok. Sono andato fuori! Uh, quasi uno in one qua, eh. La Marci sta arrivando. Vai lo Skulonskinsk! Con calma arrivo. Buonasera! Sì? Buonasera. No, ce l'ha fatta in due, non ci credo. In tre hai fatto, in tre io. Va bene! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Devo recuperare... Ma c'è così, Marci? Non ti vedo dalla cima della monta. Eh, lo so, hai ragione. Lo ammetto, lo ammetto. Ho qualche problema di sorta, ma... Ok. Sorta? Ok, bello Marci, va bene. Dove sei andato, Loco? È saltato indietro io. Perché sei tornato indietro? Allora, c'è... Oh, boogie! Ok, io ho fatto par... Vediamo se riesce a fare il par... Buggie! Par? Troppo forte! No! Ma è mai stupido, beh, è stupido per forza. Ma non va piano sta cosa! Ma te l'ho detto anche a me prima faceva qualche cosa strana, non capisco! Stiamo recuperando! Ok, questo dovrà. Se sei forte vai sui lati. Sulle cose, sulle rampe ai lati. Perché? Può farlo fidati. È una rampa, dici? Penso di sì. No, non è una rampa. Eh! Sono entrato! Sono entrato! Only one! Ma non è vero, sei qua da me. Ma tu sei scemo tutto. No, a me non fa ridere, sinceramente, a sta cosa. Ciao Marci, ci vediamo dopo. Che bello. Ma ti diverti veramente così tanto? Sì, mi diverto tantissimo. Io tu non ti diverti. Adesso mi ribecchi? Non ti becco, perché ti devi ribeccarti, scusa. Va bene, va bene. Va bene. Va bene, sei in tre, sei in tre anche te. Va che piano piano recupero, eh. Va che piano piano Marci recupera tutto qua. Adesso fai un altro dieci, io lo so. Allora, qui bisogna fare così, guarda. Così. Perché non sei stato a sinistra? Era meglio andare a sinistra. Perché? No, quasi only one l'avevo fatto. Perché bisogna fare così. E tu di lì cosa fai, eh? Dai, beccami. Beccami, dai. E perché tu vuoi farlo? Beccami te. Beccami. Beccami te. Non hai il coraggio di beccarmi? Beccami te invece, forza. Io non ti becco, io vado dentro la buca. Allora, anche io. Ciao. Porca zia, ci ho provato a farmi beccare. Non ho dato che ti becco. Sennò è sprecottiglio. Mi hai guadagnato uno. Mi hai guadagnato uno. Va bene, va bene, va bene. Ok. Meno 5 per l'h, no, più 5 per l'h, meno 5 per l'h. Questa qua mi sembra... Uuuuh, questa è fortissima. Oddio, aspetta. Deve essere tipo super così. Hai fatto only one? Ho fatto only one! Perché sono uscito, scusami? Ho fatto only one, non ci credo! Ma... Tipo mi sei girata là! Il disco mi sei girato su se stesso, sono finito dentro le buca! Ho capito, è successo una cosa, sta succedendo una cosa di strano. Ma non ti hai fatto only one? Sì, sto dentro io! Cioè, non sono entrato, ho provato a me to only one comunque! No, dai, non vale! Eh, non va, no, non vale! No, non vale! Eh, sono un disco, sono un disco magico. Un disco volante che mi sembra... Perché mi sembra difficile? È facilissimo, vai qua! Anche se... No, che fortuna che hai avuto, guarda. Ah, sono qua dritto, adesso tu? No! Ok. Oh, adesso ti faccio, guarda cosa ti faccio, cosa ti combino! Non è bruciato! Vabbè, questo è per quello di prima che ti ha dato il bug e te l'ha fatto entrare. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Non mi morire, Marcio, ho bisogno ancora di te, io non amico. Allora, aspetta un attimino. Uuuuh... Allora, puoi uscire? Ma io vado qua davanti, scusami. Centrale, destra o sinistra? No, io vado... Oddio. Oddio, io vado quello centrale. Oddio, sinistra. Dai, era all in one questo. L'hai fatto come me. Certo, ho fatto come te. Sono un copione io. Ma perché devi farlo? Ma perché sei cattivo? Sei dritto davanti a me, non posso far buca! Vai, vai! Non ci posso credere, che fortuna che hai avuto, guarda. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene! Va bene! Mancano otto! Sì, mancano solo otto. Oh, siamo comunque a... Siamo sempre sette di... Uuuuh... Perché qua mi sa che bisogna far così? Ma cosa hai fatto? Non lo so. Ma sei magico! Sì, ma sono in una situazione bruttissima in questo momento. Buonasera, io ho fatto rimbalzino. Sono... Ciao. Non so dove sto andando. Uuuuh! Uuuuh! In due! E anche tu lo fai in due. Ma vaffan cuore. Beh, direi che ti faccio anche questa mostra per... Guarda che tattica, hai visto? Hai visto? Quanto te la sei rischiata qua? Quanto te la sei rischiata qua? E mai io conosco le mie potenzialità. Sette di differenza, è dura, eh? È dura. Ma ne mancano quattro sette. Se non mi avesse buggato lì, porca miseria. Sì, ho buggato, buggato. Tutte scuse. Io faccio così. Oh! Oh! No! Devo beccarti, beccarti, beccarti. E vai. No! Dai, ribeccami. Dai, ribeccami, dai. Dai! Va bene. Perché sono uscito io! Come sei uscito? Sono uscito. Ma perché? Ma che cavolo vuol dire? Adesso cosa farei per forza beccarmi? No, no, no. E sto qua per due minuti e venticicicoli secondi. E va bene, ok. Aspettiamo. Come è andata a giornata, Marci? Cos'hai mangiato pranzo? Cos'hai mangiato pranzo, Marci? Ok. Adesso mi tocca farlo. Devi per forza farlo. E beccate questo! No! No, no! Ho fatto dieci! Non mi ero accorto, mi ero dimenticato! Per quello ti ho buttato indietro, loco! Ma tu pensi che ti butti indietro apposta, scusami. Loco, mi vantaggio io comunque! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Non è finita! Io qui vado fortissimo. Non finisci perché lo dico io! Ok. Che potenza! Io ho più potenza di te. Bravo. Bravo, lonscolonskinsk. Stavolta vado dritto, non mi faccio prendere dal panico. Ok. Era difficile dove ero io, eh. Era... Eh, ho fatto l'errorino, ho fatto l'errorino, me ne rendo conto, va bene. Anche più scarsi sbagliano! Dai, loco, non smetti adesso, eh. Perché questa è la misura di super difficile? Puoi andare, adesso è la sinistra, c'è di te. No, ma ho beccato te! Ma veramente hai beccato me? Non mi hai bloccato lì! Dove sto andando? Ma è di là la buca, loco. Ci sono due le buche! Eh, ma ce l'avevi vicino, altra buca! Sono centrato comunque, tre l'ho fatto. Io ho fatto due. Uuuuh! Ma hai due? Uuuuh! 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 Questo ok mi sta piacendo parecchio. Io sono anche a me da gioia e qua. Allora, qui cosa si può... Uh, qua si può fare all'in one. Però secondo me... Non funziona! Si è buggato, come te prima! Ok. Eh, vedi? Si è buggato. Che a me prima si è buggato? E fa due! E fa due! Vai, di due, due! Ti preguento, ti preguento, ti preguento! Eh, che cavo faccio adesso io? Devi fare... Ecco così devi fare... Sì, sì, sì! Dai ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Va bene, va bene. Ce l'hai fatta. Siamo pari, ragazzi? Allora, che cosa siamo pari? Ragazzi, siamo pari? Ahahahah! Va bene, dobbiamo... Uuuuh! Non posso prendere con tuppini. Qua bisogna prendere dritto, dritto, eh? Calcolando, calcolato tutto. È impossibile. È impossibile. È impossibile questa qua. Hai fatto quattro? Non puoi farlo, quella roba che dici tu. Insomma, sì, sì, si puoi farlo, ma se fai quattro dritto ce la fai. Io quattro dritto ho fatto. Infatti, era impossibile fare. Ok, io faccio così adesso. Fermati, fermati, fermati! Io ho fatto in quattro. Io faccio in cinque. No, no, no! No, ma... Più dieci! Più dieci! Più dieci! Ho t'ha passato il muro! No, c'è il buco lì, eh? Ma c'è un... C'è il muro! Ho t'ha passato il muro! C'è il buco lì! Non c'è il buco, c'è un muro! Ahahahah! L'ho colonschinsk! Lonscholonschinsk! Lonschinsk! Vabbè! Secondo me non l'ha presa bene, raga. Non so cosa me lo fa pensare, eh? Lonscholonschinsk! All in one! Sì! Vabbè, io ho fatto in tre. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ammetto di aver sbagliato. L'ultima! Capito dieci, ma ci fai più dieci. Oddio, questo è difficile. Perché è così difficile? Aspetta, valgono tutte, eh? Ah, se sei un uomo, se sei un uomo, vai in quella lontana. Se sei un uomo, vai in quella lontana, Marci. Tutututu! Impar! E fa in due, batte! Ora, gara classifica di golf, la voglio vedere nei commenti, eh? È che Marci sta scalando le classifiche ormai, le sta scalando, le sta facendo così. Eh, loco, mi dispiace. Guarda che forza! 69 a 57, 69 a 57, 69 a 57, 69 a 57, 69 a 57. E se la porta a casa, Marci. suloe... suure... suure...